Un saluto caloroso e un particolare e speciale ringraziamento vorrei rivolgere ai giovani presenti qui e a quelli presenti in altre piazze d'Italia e con noi collegati. Voi ragazzi davvero, anche per quel che avete detto, rappresentate il futuro e la speranza per il nostro Paese. Le tante associazioni che valorizzano l'impegno sociale di questi giovani sono organi vitali, indispensabili per il nostro Paese e a loro va il mio ringraziamento.